Cari amiche e cari amici, questo video di un'importanza fondamentale per tutti i cattolici e non solo, per chiunque voglia avere una panoramica culturale riguardo all'Europa vasta, ampia. Per questo ho deciso di parlarvi di Calvino e per comprendere Calvino bisogna dare qualche accenno a Martì Lutero e alla riforma luterana. La riforma luterana, cioè di Martì Lutero, ha inizio nell'ottobre del 1515, quando questo monaco agostiniano, appunto Martì Lutero, pubblica 95 tesi che, secondo la tradizione, incolla sul portone della cattedrale di Wittenberg. Attraverso questo scritto attacca frontalmente il cattolicesimo e soprattutto la figura del pontefice e il papa di Roma, in particolare riguardo allo scandalo della compravendita delle indulgenze. Si chiedevano al tempo dei soldi per costruire la nuova San Pietro e si scontavano giorni di paradiso, proprio attraverso questo tipo di donazione. Dunque Martì Lutero coglie questa occasione per condannare moralmente sia il cattolicesimo in blocco, ma soprattutto l'atteggiamento dei papi che all'epoca vivevano come re, tant'è vero che spesso quel periodo è chiamato il periodo dei papi re. Il cristianessimo, secondo Martì Lutero, va riformato su base di tre principi fondamentali. Il libero esame ovvia la possibilità e la libertà per ogni cristiano di leggere e interpretare la Bibbia senza la mediazione del sacerdote. E questa era una grande novità. Noi adesso siamo abituati anche gli stessi cattolici, qualsiasi cattolico può andare in una libreria, comprare la Bibbia, il Vangelo e leggerlo. Ma fino a pochi decenni fa non era così. C'era necessariamente l'intermediazione del sacerdote e Martì Lutero si scaglia contro questo e dice no, ciascuno può leggere la Bibbia e interpretarla per conto suo. Secondo elemento, sacerdozio universale. Cosa dice Lutero? Che tutti sono responsabili della propria fede e non la demandano a nessuno. Quindi anche qui nega il principio di autorità del sacerdote dice che ognuno è sacerdote, ciascuno è sacerdote di se stesso. Terzo punto, la salvezza che per Lutero dipende solo dalla fede. Qui c'è una cesura fondamentale con la Chiesa di Roma perché in questo modo Martì Lutero annulla l'importanza delle opere e tra queste opere vi erano anche le offerte dell'indulgenza della Chiesa. Così il conflitto di Martì Lutero non diviene più soltanto morale ma anche teologico. Questi ecco sono piccoli accenni su Martì Lutero perché è stato il primo protestante, cioè colui che diede il là proprio al protestantesimo moderno. Ma riguardo all'influsso del protestantesimo sulla nostra cultura, ancora più importante di Martì Lutero fu un personaggio che è meno conosciuto dal popolo, dalla massa, e che fu Giovanni Calvino. Fu proprio infatti la dottrina calvinista a penetrare dapprima in America e quindi a diffondersi e la cultura calvinista diventerà proprio il modo di interpretare la realtà degli americani. E siccome noi siamo una colonia americana e sotto dominio americano, gran parte di questa cultura, influenza inevitabilmente anche il nostro modo di ragionare. Giovanni Calvino. Giovanni Calvino era francese e dopo Martì Lutero è il maggiore esponente della riforma protestante che, come vi ho detto dal 1517, apre questa lunga era di aspri conflitti all'interno del mondo cristiano, cioè questo scismo, una spaccatura terribile. E il calvinismo, attenzione, questo è importante, indica sia una concezione particolare del protestantesimo, ma può essere inteso anche in maniera più generale come tutte le chiese protestanti che si sono formate in Europa nel corso del XVI secolo, quindi nel nel secolo anche di Martì Lutero. In sintesi, il calvinismo è l'insieme di quelle dottrine teologiche formulate appunto da Calvino, ma ci si riferisce al termine calvinismo anche per indicare tutte l'insieme delle confessioni cristiane protestanti che adottano l'organizzazione di Calvino e accolgono le sue dottrine in varia misura, a seconda delle diverse chiese protestanti. Ed è importante conoscere questo perché Bergoglio sta un po' alla volta dando una svolta alla chiesa cattolica sotto l'influsso anche del protestantesimo e dunque a di Martì Lutero, ma anche di Calvino, come vedremo. Adesso faccio una piccola sintesi che poi andrò ad approfondire, ma cercate di fare molta attenzione perché, ripeto, questo è un video importante. La teologia calvinista riprende alcune tesi fondamentali da Martì Lutero, ad esempio che la Bibbia, la Sacra Scrittura è l'unica regola di fede, e poi la teologia calvinista, come il luteranesimo, nega il libero arbitrio, quindi il libero arbitrio è la nostra possibilità di scegliere bene e male, e poi c'è la giustificazione per fede senza opere e questo lo approfondiremo dopo, ma quindi non sono importanti le azioni, le opere che fai. La cosa fondamentale è la tua fede. A tutto questo aggiunge anche le dottrine elaborate da Calvino che fanno perno su quella che è la doppia predestinazione, che vuol dire che alcuni uomini sono destinati al paradiso e alla gloria eterna, e invece altri sono, quando nascono, già sono destinati alla dannazione eterna, e anche questo provoca una cesura rispetto a quella che è la teologia cattolica. Per quanto riguarda i sacramenti, il calvinista ammette solo il battesimo e la cena eucaristica, ma attenzione, esclude la transustanzazione, ossia nega che il pane e il vino si trasformino realmente nel corpo di Cristo. Questo non lo accettano e dunque non accettano la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Loro prendono, nella celebrazione della cena che fanno, prendono il pane come un simbolo che realizza l'unione dei fedeli che partecipano al corpo di Cristo, ma tutto questo è simbolico. Quindi, quando loro spezzano il pane e mangiano il pane, ricordano simbolicamente l'ultima cena, ma negano la presenza di Cristo, negano la transustanzazione, cioè la trasformazione del pane e del vino realmente nel corpo e nel sangue di Cristo. Ma vediamo gli elementi calvinisti che maggiormente hanno influenzato la cultura europea e il modo di pensare anche di te che mi stai ascoltando, che essi sono fondamentali. Allora, Calvino non era assolutamente un liberale, tantomeno era un democratico. Anzi, era molto intollerante, era assolutista e trattava chi non era d'accordo con lui esattamente come l'inquisizione in quel periodo trattava di eretici, cioè li bruciava. C'erano roghi cattolici e roghi protestanti, anche se poi sono più conosciuti soltanto i roghi cattolici. Insomma, Calvino fa piazza pulita di tutte le autorità e dice praticamente al fedele guarda che non hai bisogno del prete, perché tu sei il prete di te stesso, il tuo sacerdote sei tu e quindi sei tu che devi leggere la Bibbia, sei tu che devi interpretarla. Non devi andare in chiesa, non devi essere legato alla tradizione della chiesa, ai dottori della chiesa, ai papi, ai teologi. No, Dio ti parla direttamente, quindi sei tu che rispondi direttamente a Dio e del modo anche in cui tu osservi i precetti di Dio, i comandamenti di Dio o li trasgredisci. Non devi preoccuparti della cosa ti accadrà quando morirai, perché c'è la predestinazione, cioè tutto è già deciso da Dio e quindi tu non saprai mai se Dio ti riserva il paradiso o l'inferno e neanche puoi influire sulla decisione di Dio perché tutto quanto è già predestinato. Quindi è inutile che ti isoli dal mondo, che vai in un monastero ad esempio a contemplare o ti ritiri in una capanna a fare l'eremita e a pregare. No, la tua preghiera deve essere il tuo dovere, il compimento del tuo dovere. E qual è il tuo dovere? È lavorare e produrre. E allora ecco, vedete, la concezione calvinista comincia a influire su quella che è la concezione liberale e liberista. Pur, ripeto, se Calvino non era assolutamente né un liberale, né un liberista, né un democratico. Più riuscirai a lavorare, più riuscirai a produrre ed ad arricchirti, più vuol dire che Dio ti ama. Capite l'abisso tra questa concezione, ad esempio quella di un San Francesco che esortava la povertà, la contemplazione, e non è un caso che i grandi contemplativi si trovano solo nella Chiesa Cattolica. Tutte le chiese protestanti, nessuna esclusa, non ha mai prodotto un grande contemplativo. Agli italiani sembra strano questo discorso, e oltretutto non avrebbero mai potuto farlo nella propria patria perché sarebbero stati scomunicati. Infatti non solo ci furono scomuniche in quel periodo, ma anche roghi, come vi dicevo. Però anche la stessa vita degli italiani e dei cattolici fu rimodellata da questo nuovo modo di concepire la relazione con la religione e con il Vangelo. Perché? Perché il calvinista scopre la libertà e le dà un fondamento religioso. i cattolici dicono no, non è affatto vero, perché se c'è la predestinazione, sono più schiavi di loro, dei calvinisti non esistono, perché puoi anche provare attraverso le opere a santificarti, ma tanto è tutto già deciso e sarà nullo. Questo però riguardo al paradiso, all'inferno, cioè al destino ultraterreno, sul piano dei rapporti umani, il calvinista è libero perché si sente libero? Proprio perché non c'è più la mediazione del sacerdote nella lettura del Vangelo e soprattutto non riconosce più l'autorità del Papa e quindi fa crollare il senso della gerarchia in un periodo in cui la gerarchia era fondamentale, in Europa si stavano formando e consolidando sempre di più le varie monarchie nazionali. Dunque i calvinisti seguono la loro coscienza e Dio secondo loro è un giustizio. un giudice che non puoi raggirare con strani giochetti e che devi cercare solo all'interno della tua coscienza ed è l'unica autorità che riconoscono e quindi non un'autorità esterna, il Papa e il sacerdote, ma un'autorità interna, Dio che ti parla e ti ispira quando leggi il Vangelo. Che cosa che può sembrare bellissima che ha dato luogo poi a tutta questa frammentazione del cristianesimo? Perché ognuno poi salza la mattina, fonda la sua chiesa e ci sono 3.000 interpretazioni e anche 3.000 chiesucole e conventicole cristiane. e cosa importante iniziano i primi semi, i primi germogli della democrazia. Perché? Chi segue il canale sa che la democrazia nasce in Atene, ma la democrazia atenese era totalmente diversa, la democrazia di 2.500 anni fa circa, dalla democrazia moderna. Era completamente un'altra cosa, perché non potevano votare donne, non potevano votare i miteci, non potevano votare gli schiavi e così via. E invece all'interno della loro congregazione, cioè delle chiese protestanti, il pastore che guida la preghiera, quello che per un cattolico potrebbe essere il parroco, non viene nominato da una gerarchia, quindi da vescovi, dalla gerarchia ecclesiastica, no, viene scelto dalla comunità e quindi tramite elezioni. Ed ecco perché comincia a nascere la democrazia. Però nell'assemblea calviniste si elegge il pastore che vive con le offerte della comunità e attenzione, perché il suo mandato può essere revocato se ad esempio si comporta male o in contraddizione o viene scoperto a fare qualcosa di dannoso. E questo, vedete, è lo schema della democrazia. Do il mio voto, elego i miei parlamentari, se questi non vanno bene e mi tradiscono e si portano male, revoco il mandato e voto qualcun'altra. E così si ritrovano anche democraticamente il contadino, l'artigiano, il capitalista, il nobile, tutti seduti sullo stesso banco. Nella stessa assemblea seguono lo stesso libro tradotto nella loro lingua, mentre qui in Italia ad esempio era vietato, la Bibbia e l'Evangelo erano letti solamente in latino e con la mediazione del sacerdote. Non è che trovavi i Vangeli nelle case dei fedeli cattolici. E lì invece stanno gomito a gomito e da questo punto di vista vedete un altro segnale per quanto riguarda la democrazia e perché gli istituti democratici nascono proprio da questa logica e questa sorta di parificazione di fronte a Dio nelle assemblee settimanali dove ci si riuniva per pregare leggendo tutti con il proprio Vangelo e leggendo e interpretando a seconda coscienza. E queste non sono altro che il trasferimento sul piano politico di una concezione religiosa che esclude ogni autorità e riconosce come autorità non più il Papa, i Vescovi, la gerarchia ecclesiastica ma solo quella conferita per elezione, il pastore che ha la delega dell'assemblea. E allora i calvinisti, sì perché si diffondono molto in Svizzera, in Olanda, anche in Inghilterra, perché poi quella organizzazione diventerà dal punto di vista politico l'organizzazione democratica, le logiche parlamentarie anche, no? e queste nascono nelle chiese calviniste e proprio questo dà al calvinismo la forza di resistere nel tempo. In America i calvinisti spostano milioni di voti, un prete calvinista, un pastore calvinista che fa un programma a New York ed è famoso sposta milioni di voti. I paesi cattolici invece non restano sempre con il loro discorso gerarchico. Un'altra conseguenza importante, e qui c'è tutto uno studio interessantissimo di Max Weber, è il capitalismo. Perché? Vi ho già detto che hai il favore di Dio, secondo la logica calvinista, se riesci a produrre di più e quindi a lavorare di più, perché se riesci a lavorare, a produrre molto, vuol dire che Dio ti vuole bene, che sei tra i prescelti da Dio. Per produrre di più però che bisogna fare? Bisogna investire, fare investimenti sempre di più. E per investire di più bisogna risparmiare di più, anche perché il calvinista non spende i soldi, non li sciupa in scopi voluttuari o con le prostitute o con azioni peccaminose. Quindi accumula, ecco il capitale che si accumula. Spendere soldi così per scopo voluttuario gli dà il senso di colpa e lo fa sentire inadeguato rispetto a Dio e questa morale coinvolge tutto il costume e lo rimodella. E allora ecco il calvinista molto ricco, l'impresario, l'imprenditore ricchissimo, che però non sperpera in sete, in lusso, come era la nobiltà europea, ma si veste sobriamente, con stoffe solide che rifiutano tutti quei capricci della moda che invece in Europa tra la nobiltà andavano fortissimo. E anche le stesse case, qui si costruiscono i palazzi rinascimentali, i palazzi barocchi stupendi, che cominciano qui in Italia, questi fenomeni si diffondono in tutta Europa. E invece dall'altra parte dell'oceano e l'influsso del calvinismo anche in Europa, i calvinisti europea, vivono in case comode ma semplici, che assicurano certo il comfort, ma escludono totalmente il lusso in quanto ritenuto bene voluttuario, quindi una sorta di offesa a Dio. Quindi niente saloni di rappresentanza, niente fastosi galleria, niente servitori in livrea, niente di nostri teatri con gli scaloni, niente di tutto questo. Niente barocco perché il calvinista non tiene alle apparenze, mira a inserirsi nelle strutture della società attraverso questa sua no di vedere le cose. E quindi capirete che questa implica una sovversione di quella che era la tradizione cattolica, di quella che era la chiesa e la cristianità. Ancora nel Cinquecento l'Europa veniva chiamata la cristianità. Oggi la chiamiamo l'Europa. Allora si chiamava la cristianità e questa cristianità inizia ad essere frammentata per vari motivi a seconda anche degli interessi personali dei re, che chi appoggia il papa, chi appoggia invece Lutero e Calvino. Non esiste il culto dei santi e quindi che succede? Succede che mancano tutte quelle feste che ancora oggi punteggiano il nostro calendario e per il calvinista anche quelli sono giorni produttivi. Quindi aumenta la produzione, aumenta i risparmi e aumenta il capitale. Altra conseguenza importante è la formazione degli stati nazionali in Europa, perché la Bibbia viene tradotta nelle lingue nazionali, proprio perché ciascun fedele deve leggere la Bibbia per conto suo, senza più la mediazione del prete, come vi ho detto. E' per questo che ad esempio Marti Lutero viene considerato il padre, o quantomeno tra i padri proprio della lingua tedesca, perché tutti hanno il dovere di leggere le scritture e nella lingua cosiddetta al tempo volgare, cioè nella propria lingua nazionale. E i protestanti stampano Bibbie, le traducono, le diffondono e questo provoca un processo di alfabetizzazione che è fondamentale, non è un caso che ancora oggi i paesi cattolici sono quelli dove si legge di meno, perché il processo di alfabetizzazione dei bambini così è stato ritardato. E così attraverso la Bibbia tradotta nelle lingue nazionali e la possibilità da parte dei re che vedono l'indipendenza dalla Chiesa cattolica cominciano a formarsi gli stati nazionali e anche gli stati laici. Paesi calvinisti si sottraggono dalla tutela della Chiesa, raggiungono una propria sovranità indipendente dalla Chiesa e cosa fondamentale finisce l'analfabetismo. Perché i bambini, dei calvinisti, cominciano a studiare. Perché? Perché devono leggere la Bibbia. Per leggere la Bibbia è devono saper leggere e scrivere. E allora, mentre da noi c'è una percentuale di analfabetismo nei paesi cattolici che continua, nei paesi protestanti l'ignoranza comincia a essere vista proprio come lo strumento per il demonio, uno strumento del demonio. E quindi c'è una sorta di conversione all'alfabeto di vastissime masse popolari. E questo è un elemento fondamentale. Perché, Marti Lutero, abbiamo detto, e siamo nel 1517 con l'esposizione delle tesi contro il Papa, nell'arco di due secoli e mezzo, questo processo di alfabetizzazione che c'era stato in Europa consentirà poi ai filosofi francesi di stampare la prima enciclopedia, inizialmente a tiratura limitata, al primo volume, poi su prenotazione. E chi la può prenotare? Eh, la possono prenotare quelli che leggono. E l'enciclopedia diventerà il mezzo di diffusione dei vari d'Alemberti, de Rau, Voltaire, di tutte quelle menti e quegli intellettuali che prepareranno il terreno per quella che sarà la antitradizione per eccellenza, ossia la rivoluzione francese. E allora il cattolicesimo non conosce queste deleghe dal basso, non conosce democrazia, resta gerarchico, è tutto dall'alto. Pontifex, il pontefice, è perché è ponte tra Dio e il regno degli uomini, e quindi conosce solo investiture dall'alto. Ricordate, anche nel Medioevo, le investiture del cavaliere venivano sempre dall'alto. No, i calvinisti conoscono le deleghe dal basso. E i due poteri, spirituale e temporale, spesso entrano in conflitto tra loro. Poi c'è da dire che l'analfabeta è molto facile da governare, sia sul piano temporale, politico, ma anche sul piano spirituale, perché può essere facilmente condizionato. E l'analfabeta ha bisogno di una sorta di interpreti anche nella sua lingua, perché non capisce molto parole. E quindi non gli resta che sottomettersi. Quindi nei paesi cattolici niente scuole, neanche, anzi, solo quelle adibite, che quelle funzionano molto bene al personale della Chiesa. Nei paesi protestanti, invece, si diffonde la cultura in maniera rapidissima grazie a questa scolarizzazione dei bambini sin da piccoli. E proprio questi bambini che crescono in maniera frugale, che sono convinti di essere prescelti in quanto ricchi e che devono però non dilapidare la loro ricchezza per evitare l'inferno, ma accumulare capitali, reinvestono i capitali nell'impresa, assumono nuovo personale e questa dinamica è quella che fondamentalmente darà luogo al capitalismo moderno. Bene, cari amiche e cari amici, ritornerò sull'argomento. Per il momento è tutto, un pollice su per il mio lavoro e sempre, ma dico sempre, incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.